bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono kino e oggi tutti insieme proveremo ad aprire il bundle lama plus per 11 dunque raga sostanzialmente questo bundle lama plus per 11 ci da appunto 11 lama plus al prezzo di 10 non è una grande offerta ma visto anche l'evento dei biglietti di natale mi piacerebbe appunto aprirne 11 ma se vedo che la cosa va abbastanza bene penso che ne aprirò 33 raga quindi adesso non lo deciderò adesso ma lo deciderò facendo il video voi lo saprete già dal titolo dal titolo e dalla copertina appunto vediamo un po allora premetto che l'unica cosa che vorrei trovare è appunto il canone immondizia però sappiamo che è abbastanza difficoltoso trovarlo ho visto già molte moltissime persone l'hanno già trovato ho visto i vari screen sui vari gruppi eccetera eccetera voglio essere anch'io uno di quelli a possederlo quindi inizierei subito ad acquistare il primo bundle ok raga ci siamo un po di suspense in lama mi guarda veramente male non capito che mi guarda costocchi e poi mentre lo spacco lo apre l'occhio vabbè grande zio lama quindi 50 bigliettozzi a raga sono partito con 2900 biglietti e mi sono dimenticato di dirvelo l'avevo anche guardato comunque ne abbiamo due normali però 0 argento 0 oro non ti preoccupare che ti do una botta che faccio inventare argento te l'ho detto te l'ho detto bro te l'ho detto eh però oro non lo diventa mamma mia che schifo di lama che mi stanno dando già saprei pista hype base insomma raga e tutti questi eroi se voi non li avete per carità sono anche buoni ma per un livello 129 che ha già tutto tutto che sta cercando probabilmente io sto cercando dire vero supersiti oro della personalità che mi interessa il cannone immondizia e qualsiasi personaggio oro che mi dia manuali di addestramento diciamo cioè cos'era sta cosa cos'era sto lama raga che cos'era che cos'era non me ne sta dando neanche un oro molto molto peccato difensore col cecchino un bastone un apprezzo i 50 biglietti fan sempre comodo mamma mia non so se ho fatto una stronzata a comprarmeli eh però vediamo argento e neanche questo diventa oro non fa niente vediamo il prossimo dovrei metterci un po di emozioni mentre li apro è vero ma come li metto le emozioni se non me le danno stila ma guardate raga che schifo continuiamo abbiamo aperto per ora ho perso il conto vediamo quanti ne rimangono non me lo dice non me lo speriamo che almeno questo mi diventi oro raga like se pensate che insieme a me che questo lama diventi oro argento 1 2 3 che culo raga che culo finalmente almeno 1 ok vediamo il triangolo degli illuminati davanti il triangolo degli illuminati davanti con un simbolo di potenza vabbè ti spacco bro ti spacco tutto ci prego dammi qualcosa di buono sono in silenzio perché sono in tensione raga straniero epico ninja epico facciamo stranieri epico facciamo sono ti tecnocombattente raga questo è lo straniero che vi dà le munizioni quindi è possibile trovarlo quindi è possibile trovarlo e sì perché alla fine dell'evento avvoltoio quindi possiamo trovare gli eroi dell'evento avvoltoio guardate non mi fa vedere da qui comunque questo qua è lo straniero che vi droppa le munizioni nei lama giusto per farvelo farvelo sapere poi abbiamo collera del re di vivo questa mi sembra che era un'ascia dell'evento avvoltoio intanto qua si è buggato tutto ok vediamo un attimo armeria progetti collera del re di vivo vediamo un attimo che cosa mi manca a me da registro raccolta non mi ero accorto che era cambiato tutto così tanto comunque comunque hype base innanzitutto lo mettiamo qua poi eroe avvoltoio direi che lo posso mettere tanto ce l'ho già ora al 130 perfetto progetti eventi ok ho capito tutti uniti li hanno messi vabbè vabbè io ne aprirei un altro raga ci proverei si bandolama plus per 11 ancora vediamo 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 provo a velocizzare un po' sennò viene un video veramente lunghissimo mi sa comunque ogni lama mi da 50 bigliettini sono veramente pochi 50 eh su 1000 si farmano molto difficilmente quelli c'è proprio quelli base non servono a niente niente se non ai biglietti siamo a 22 lama in totale eh ok primo argento ti faccio fermare bro ti faccio fermare mamma mia che botta che ti ho dato lo sapevo che diventava oro mi sa che vi è esploso lo schermo a voi eh quando è diventato questo oro ci sarà un bel effetto oh lasciamolo andare normale ooooh straniero raro costruttore raro una casa tanto non mi serve rame macete ok vediamo cosa ci da di oro progetto leggendario difensore leggendario io direi progetto senza pensarci due volte arma esplosiva arma esplosiva spada o attrezzo dai facciamo attrezzo magari esce il silenzio per favore rame silenzio per favore raga l'ho detto l'ho detto l'ho detto non ci credo oddio cos'è successo madonna no vabbè questa clip la pubblico soltanto perché ho predetto il futuro me la porterò subito su raga il silenzio per favore in questi giorni me la porterò su al 130 continuiamo a spaccare stila i lama invece che potrò aprire con i biglietti vi ricordo raga che li aprirò in un video a parte appunto cercherò di aprirne più possibili anche lì voi cercate di supportarmi sotto questo video per farmi fare a più presto un altro video sui lama comunque raga vi ricordo anche che potete seguirmi su instagram e lunedì ogni lunedì ci sarà un nuovo contest voglio anche approfittarne per spiegare spiegare la mia del perché faccio i video contest perché raga per me fare i video contest e scegliere ogni volta 5 vincitori di voi non è solo un modo per darmi un'arma per me è un modo anche di insomma mettermi in contatto con voi sentire un attimo cosa avete da dirmi ovvio che non posso giocare con 8000 persone alla settimana quello mi pare più che scontato però è un modo che ho trovato per appunto avvicinarmi a voi e cercare di giocare insieme cercare di capire cosa pretendete dal mio canale insomma tante cose e sto anche cogliendo l'occasione del video contest appunto per fare i vari reviews sulle armi farvi vedere come funzionano eccetera eccetera comunque vi dico anche che non ho ancora deciso l'arma che metterò come contest lunedì magari lo decideremo insieme intanto abbiamo spaccato un'altra lama d'argento rame rame cos'è? fedeltubo questo lo voglio full perk full perk horror raga come sapete io sono quello che si tira su i progetti blu full perk pistola avvoltoio not bad not bad sono tante carte grigie tante carte verdi secondo voi quanti biglietti ho farmato? secondo voi vediamo solo in questi unici sono 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 biglietti sì 50 a lama quindi a lama plus ovviamente e che dire raga conviene secondo me sì alla fine per 500 bucks una volta si può anche fare vi prendete un po' di biglietti e se vi va bene che ve ne escono anche 2 oro perché è probabile che ve ne escano anche 2 insomma potete trovare armi comunque abbastanza rare come vedete io potrei già aprirne 4 vediamo quanti quanti biglietti precisamente ho 4000 perfetto infatti non lo farò non li aprirò ora ma aspetterò che ne accumulo ancora e li apriremo tutti insieme chissà magari raga tra questi 4000 biglietti c'è il canone immondizia eh chi lo potrà mai sapere allora boys per il video di oggi è tutto voglio provare a chiudere i video in un'altra maniera voglio farvi una domanda alla fine di questo video secondo voi ne è valsa la pena comprare 22 lama plus? ciao ciao ciao